Questa mattina vi beccate una sfilza di chiacchiere sul mio Instagram del mattino Ma avete visto le novità? Le novità Lollocrea? Io ancora non avevo aperto, cioè sì, ho aperto Instagram, però non mi sono vista i post Ma c'è qualcosa che non funziona con Instagram perché mi dà delle notifiche che poi io non trovo, che non corrispondono a niente e poi scrivete cose che io non vedo di Camilla Ma Camilla, ma ci sono delle risposte? Sì, ma aiutami perché io non le vedo col computer Ci sono dei problemi insomma qua, non so Ci sono cose che funzionano diversamente tra smartphone e PC perché mi trovo a vivere delle difficoltà che non vorrei, ce ne sono anche troppe E quindi avete visto la novità? Allora, come si chiama? Boys l'ho visto ieri sera e poi ho visto dei colori nuovi Ho visto un momi veramente incantevole Quindi ho fatto tutte le mie cose, i miei abbinamenti Io ieri sera progettavo mentalmente mentre realizzavo le formelle Le ho finite e me ne mancano tre No, me ne mancano tre, va bene E poi ho già pensato cosa appiccicare, cosa far spenzolare da quella borsa che metteremo insieme con Camilla la prossima settimana Ma queste cake, queste mini cake, queste cake di soffio, il soft color Mamma mia che belle Allora, guardate, andate a vedere quella cake nera e grigia con il centro che sembra una farfalla La vedete? Adesso qui voi la vedete blu Però se andate sulla pagina Instagram di Dele Lollo Di Lollo Crea La vedete? È nera Poi nera all'esterno Poi c'è quel bel grigio fumo Poi c'è quell'effetto chiaro al centro Che visto così sembra una farfalla Non c'è del blu Lo trovate, poi la riconoscete Lo fate scorrere E lo riconoscete insomma Io sono innamorata di tutti i ciclamini Di tutti i rosa Di tutti, quel giallo di vicino al ciclamino Che poi c'è anche quel nero grigio Mamma che belli Ma guardatele tutte Sono rimaste Le vorrei tutte Mannaggia a me Perché? Perché il mohair è un evento Il mohair è un miracolo C'è lui e basta E lo so Succede così Perché anche un leggero cambio di bagno È un miracolo Nel mohair È la fibra che ami di più Lorenza Poi mi sento in difficoltà con tutte le altre Io amo le lane di pecora Che profumano di pecora Perché va fuori fuoco Questo coso Non lo so Perché fa così Va bene Scusatelo Scusatelo È una bella giornata Devo ancora uscire Ho una fame becca Salle 12.36 Lui fa i dispetti Adesso io vi saluto E andate a vedere I nuovi prodotti Adesso vado sul sito Voglio vedere se hanno caricato tutto Sono curiosa Sono curiosa Oh E boys Boys è bellissimo Viste che belli i campioni col boys Io amo le lane ricce Sono così riconoscenti ad Anna In terrazza Per la sua bucle rossa Che arriverà a diventare qualcosa Io sapete Non ho fretta Non ho fretta Perché aspetto il momento giusto Per i filati E non vuol dire che non mi piacciono Se non li adopero subito Perché devo arrivare Il loro momento È Il loro momento Oh Come sono felice Di questa cosa Scusate Va fuori fuoco Non so perché Vi abbraccio tutte Sono ancora più fuoco Adesso sono felice Ho iniziato con Rosa Con delle brutte notizie Ma ora sono felice Do la facciaccia Di YouTube E di chi lo gestisce Ah Di questo mondo Gestito da pazzi Sono pazzi Questi romani dicevano Sono pazzi in generale Nel mondo c'è follia Riprendiamoci 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 Aiutiamo i fratelli Le sorelle I cugini I vicini Di casa Riprendersi Buona giornata Sono felice